12 marzo 2014 la stampa facciamo vedere fasce la mia fascia incolta queste altre pulite ma non da me dovrebbe avere inizio come dico la mia fascia che ho pulito un paio d'anni fa adesso con due olivi che ho tagliato potato località in tavigna villatella la stampa grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti